In Italia possiamo contare circa 400.000 casi all'anno che colpiscono bambini al di sotto dei 5 anni, di cui 14.000 circa esitano in ricovero. Questi ricoveri provocano molto disagio sia al bambino che alla famiglia. Al bambino perché l'infezione adorotevirus provoca diarrea acuta, vomito, febbre alta e alla famiglia perché lo stress emotivo è importante. Da un'indagine condotta quest'anno su 500 genitori che hanno avuto un bambino ricoverato per infezione adorotevirus emerge che 9 su 10 di questi genitori consigliano agli altri genitori di vaccinare i propri figli proprio per il disagio provato. Io sarei molto tranquillizzante. Il vaccino contro il rotavirus è uno dei vaccini più sicuri e ben tollerati di cui disponiamo. Il vaccino contro il rotavirus viene offerto a prezzo agevolato presso i servizi vaccinali delle ASL a tutti i bambini. Per la vaccinazione è estremamente importante la raccomandazione del pediatra di famiglia e le vaccinazioni vengono eseguite particolarmente presso quelle ASL in cui c'è un ottimo rapporto tra la sanità pubblica e la pediatria di famiglia. Il vaccino viene effettuato a partire dal terzo mese di vita con una somministrazione orale, quindi si tratta di goccine che vengono somministrate in contemporanea con le altre vaccinazioni di questo periodo di vita come ad esempio il vaccino esavalente e antipneumococcico.